Ben trovati, in questo video vi spiegherò come leggere e capire i valori a display di un ripartitore Honeywell 205. Il ripartitore Honeywell 205 rientra nei modelli a lettura radio e direttamente dall'esterno dell'appartamento, senza necessità quindi di ricevere l'operatore in casa per le operazioni di rilevazione dei dati di consumo. Analizzando la scocca frontale del ripartitore possiamo subito notare nella parte superiore la marca, in questo caso Honeywell, nella parte centrale il modello, in questo caso 205S, nella parte sottostante la matricola univoca di otto cifre che ci indica effettivamente il ripartitore di riferimento per ciascun termosifone. Come nostra consuetudine abbiamo provveduto ad oscurare le ultime quattro cifre, lasciando tuttavia in vista le prime quattro, in questo caso 8191. Questa matricola, unita al consumo del riscaldamento della stagione in corso, viene poi inviata via radio direttamente all'esterno dell'appartamento. In questa maniera si può attribuire per ciascun termosifone l'effettivo consumo riscaldamento avuto, appartamento per appartamento. Questo consumo viene infine è parametrizzato per le caratteristiche termotecniche di ciascun calorifero presente nell'appartamento. Quest'operazione permetterà alla società preposta al servizio di lettura e ripartizione costi di farci pagare effettivamente per quanto abbiamo utilizzato il nostro impianto in casa. Andiamo ora ad analizzare i valori a display. Come possiamo notare, automaticamente, ciclicamente, il ripartitore ci mostra una serie di schermate con diversi numeri e lettere, ciascuna con il proprio significato specifico. Prendendo a riferimento il primo valore che ci appare in questo video, K060, questo indica il coefficiente fisso che viene programmato già di fabbrica sui ripartitori Honeywell per poter registrare il consumo di ciascun termosifone. potremmo trovare un K variabile, quindi un diverso valore di K, qualora i ripartitori fossero stati programmati in chiaro. Programmati in chiaro si intende che l'installatore e quindi la società che poi svolge il servizio di lettura e ripartizione costi di riscaldamento abbia inserito all'interno del ripartitore le caratteristiche termotecniche di ciascun calorifero, quali potenza termica e coefficiente di accoppiamento. In questo caso il consumo che poi apparirà a video sarà un consumo finito che non necessita di ulteriori parametrizzazioni. Proseguendo con l'analisi delle schermate, dopo la schermata K troviamo la schermata F. F ci indica il tipo di trasmissione radio programmata di fabbrica dal costruttore oppure dalla società installatrice. Il tipo di trasmissione ci indica se si tratta di un ripartitore a lettura walk-by, ovvero senza utilizzo di centraline di raccolta dati installate per i piani del condominio, oppure se si tratta appunto di una trasmissione radio con necessità di centraline di raccolta dati. Dopo la schermata F troviamo la schermata del valore attuale, quindi il consumo della stagione in corso. Oltre a riconoscerlo facilmente perché appare sempre dopo la schermata F è l'unico valore che appare a video senza punti e lettere. Eccolo qui. Proseguendo in ordine di apparizione successivamente alla schermata del valore attuale troviamo un'ulteriore schermata di controllo, questa volta dei cristalli liquidi. Tutti i cristalli liquidi a video si illuminano per verificare che effettivamente funzionino. Eccola qui. Appaiono una serie di tutti i otto. Successivamente alla schermata di controllo dei cristalli liquidi appunto troviamo la schermata MD, memory date, la data di azzeramento. In questo caso apparirà a video 3009, eccolo, indica che il 30 settembre di ogni anno il ripartitore di calore automaticamente, quindi senza operazioni esterne, si azzererà, manderà il consumo della stagione in corso in un'ulteriore schermata che è quella con la lettera M. Eccola qui. È l'unica schermata che appare lampeggiante a video e terrà in memoria appunto per un anno il consumo della stagione appena conclusasi. In questa maniera l'utente avrà la possibilità sia di un controllo del valore riportato in bolletta che corrisponda con quello a video, nonché di fare un confronto con la stagione successiva per verificare i consumi di ciascun calorifero. Questo modello di ripartitore inoltre ha un sistema antimanomissione. Sul fondo del ripartitore infatti è presente un sigillo che qualora ha rimosso manderà in allarme il ripartitore. Questo errore verrà poi trasmesso congiuntamente al consumo e direttamente all'esterno alla società che si occupa del servizio di lettura e ripartizione costi. Per questo video è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, alla prossima. Ciao!